Arte contro il degrado. Come era stato annunciato, nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Novara, in occasione della giornata mondiale della terra sono stati posizionati, in ordine sparso, sei vasi del peso di 100 kg l'uno, composti con materiale riciclato in plastica, sottovasi, tubi per l'irrigazione, argilla e innaffiatoi per creare un'opera d'arte contemporanea. Si tratta di installazioni dell'artista. Abbonati a soli 9,90 euro all'anno. Beba Steck House, a Ornavasso.